Ciao leone, ciao leopardo, ciao leopardo, ciao bufalo, ciao tatavuga africana, come stai? Bene, sto bene, e tu tatavuga? Tutto bene, queste tatavughe sono aggressive specialmente durante il tempo della riproduzione, l'accoggiamento avviene preferibilmente dopo la stagione delle piagge, della piaggia. I maschi ortano in un conto all'altro, e spesso, e spesso, i liti finiscono in un ferite sanguino. Grazie a tutti.